Hi Raimond, wait a moment. Allora, siccome noi siamo una web tv internazionale, canale 5 ha Olga Fernando e io Marco Bidone Cignoli, vieni! Buonasera, buonasera. Perché sei qui con me? Perché sono Olga Fernandus. Esatto. Fernandez. Fernando. Per tradurre ovviamente ciò che è Raimond. Dovrò aiutarmi nell'inglese perché il mio è pessimo. Did you have fun? Yeah, yeah. Divertito. I had fun. Ha detto che si è divertito. Yeah, I had fun. How much fun? Very much. Anche noi. Si è divertito tanto. Tell us something about your passion of Tagvon Do. Oh, wow. It's the thing I really want to do with my life, you know. Because I spend most of my time, most of my years trying to be an athlete, trying to be a champion, a world champ. So I really want to move forward a bit with it. I want to go forward with my sport, with my career. I want to push forward because I have spent a lot of my time, a lot of my years trying to be a champion. Trying to be a world champ. Allora, lui praticamente vuole dedicare molto tempo della sua vita, ovviamente delle sue giornate, a questa sua passione. Vuole che diventi ovviamente una professione, vorrebbe diventare un campione di Tagvon Do, addirittura a livello mondiale. Pensate, quindi le sue ambizioni sono veramente tante e fa di tutto affinché tutto ciò si verifichi. Grazie, Raimond. See you soon. Thanks. Thank you very much. Ciao, sei un'aspirante poeta, oppure ballerino, oppure modella, o rapper? Insomma, pensi di avere un talento e vuoi portarlo sul palcoscenico e davanti alle telecamere? Partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Puppe Art Contest. La ricerca dei talenti è appena cominciata, quindi se vuoi puoi iscriverti o richiedere informazioni inviando un sms al numero 320 22 45 117 o commentando il video qui sotto. Io sono già sul palco, vi aspetto qua. Bulli e Puppe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera. Abbiamo finito questa pubblicità. Ah, ma non dire su che c'è quanto non c'è.